Sì, devi parlare. Sì, devi parlare. Sì, devi parlare. Il limite è una cosa cui pensi spesso appena apri gli occhi. Il limite è rinunciare a qualcosa, rinunciare ad una partita. A volte è proprio il suono di una palla che rimbalza sul playground, di una palla che nessuno vuole giocare. Gioca quella palla. È proprio quella che ti farà sentire vivo. Non rinunciare mai. Nemmeno quando ti diranno che non sei alto abbastanza per arrivare al canestro. Non essere il tuo limite. Sei la tua passione. Sei il tuo sogno. Indossa le tue sneakers, la tua t-shirt e i tuoi pantaloncini di fiducia. Ora sei pronto per il più bel party di sempre. La tua partita. Che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.